Ciao a tutti! Ciao! Oggi come potete vedere già dal soggetto video hall dedicato ai saldi per l'appunto del mondo Disney. Premessa questo oggetto è già stato tolto dalla scatola perché veramente abbiamo troppa roba in giro per casa e occupava veramente tanto spazio e poi era semplicemente una scatola di polistirolo per cui ci ritrovavamo con dei pallini bianchi ovunque. Esatto. E nulla questo oggettino qui che sarebbe per chi non lo sapesse il maialino di Toy Story il maialino di Toy Story Mr. Ham se non sbaglio Ham significa prosciutto in inglese quindi c'è il gioco di parole mi è stato gentilmente donato dal mio fidanzato. Vedete che altro non è che un salvadanaio anche nel film infatti lui è proprio un salvadanaio quindi ha una riproduzione diciamo fideli in scala 1 a 1 ed è bellissimo vedete che ha questi occhietti tutti neri poi queste piccole orecchiette le narici la bocchetta aperta poi queste piccole zampine con tutte le unghiette nere che sono carinissime anche qui dietro naturalmente non può mancare ovviamente il codino tutto arricciato tipico dei maialini e sotto nelle zampine presenta anche questi piccoli feltrini non so sono anti scivolo sono anti scivolo e secondo me sono anche anti graffio quindi ottimo qui sotto c'è scritto disney pixar fatto in cina naturalmente e qui per l'appunto c'è il tappo in sughero voi non fate altro che andare a svitarlo potete recuperare le monetine io non penso che lo andrò ad utilizzare come salvadanaio ma semplicemente lo andrò ad utilizzare come sopra un mobile e questo oggetto ve lo faccio vedere perché faceva parte di una promozione come si dice una promozione dove il soggetto veniva praticamente dato gratis qualcosa del genere un 3 per 2 quindi questo se non sbaglio il mio fidanzato era venuto gratis avevo poi preso degli altri oggetti che sono delle spillette allora mettiamo lui un attimino da parte così vi faccio vedere le spillette le spillette in questione sono le seguenti magari ve le tolgo dalla carta almeno riuscite a vederle un pochino meglio ecco qui finalmente siamo riusciti a prendere l'ampolla dal dal suo conto dal dalla confezione e qui c'è per l'appunto la spilletta come potete vedere è una spilletta dove viene riportato stitch seduto su un astraio che si sorseggia un bel cocktail e c'è scritto weekend vibes ed è veramente molto carino fatta benissimo naturalmente vabbè è una spilletta originale quindi ovvio che sia fatta bene e dietro c'è per l'appunto questa cosa forma di topolino potremmo definire per l'appunto la forma quella di topolino secondo me che va a bloccare proprio la spilletta evita che voi vi possiate pungere e via dicendo se rischiate di pungervi fate la fine della bella addormentata quindi state attenti e la secondo me è proprio carina anche la provetta in sé perché almeno io la trovo un'idea sì la trovo un'idea veramente brillante quindi complimenti alla disney per questa idea seconda spilletta questa mi è stata regalata invece da mia madre forse ve l'avevo già fatta vedere ma non l'ho spacchettata perché aspettavo di fare questo video ed è una spilletta con buy max anche questa è stata presa durante i saldi ve la vado ad aprire e ve la faccio vedere eccola qui anche lei è stata liberata per l'appunto dalla sua confezione nuovamente andiamo ad aprire questa piccola ampolla e ve la faccio vedere più da vicino c'è buy max e c'è scritto al di sotto would you like a hug quindi vorresti un abbraccio ed è molto carino perché vi è questa forma a cuoricino all'interno del quale vi è buy max ed è una spilla pendente in un certo senso perché al di sotto vi è questa scritta riportata ed è attaccata appunto con un gancino la parte posteriore è del tutto identica alla spilla che vi ho fatto vedere precedentemente e secondo me anche questa qui è molto carina vi faccio vedere magari le due spille di fianco una all'altra ma sono decisamente deliziose entrambe questa è un po' più piccina questa è un po' più grande ma fondamentalmente comunque sono fatte assolutamente entrambe in maniera superba ottima e niente adesso vi faccio vedere per l'appunto l'ultimo oggettino andiamo a riporle all'interno della loro piccola ampolla le mettiamo qui sullo sfondo così si devono compagnia e l'ultimo oggetto in questione è racchiuso qui all'interno che cosa sarà secondo te vedete che c'è tutta la carta con popolino chi è chi è chi è momento suspense ed è questo c'è scritto per l'appunto space space rain non dovrebbe essere space ranger io lo so magari mi ricordo io space crane scusatemi space crane quindi sono io che sono completamente rimbambita o come si direbbe dalle mie parti abelinata e nulla vedete che sopra c'è questo questa targhettina sarebbe una decorazione natalizia in linea teorica c'era il 50 per cento di sconto quindi anziché 17 euro ne costava 8 euro e 50 samantha e anna approvano quindi ed è per l'appunto se avete visto basale basale tier two story il primo capitolo sapete che c'è una scena fatta in questo modo dove ci sono per l'appunto tutti gli alieni che urlano o l'artiglio e all'interno finiscono anche buzz e vudi poi in una fase successiva e vengono per l'appunto catturati da quel bambino cattivissimo che fa gli esperimenti sui giocattoli e nulla qui sotto c'è scritto per l'appunto prize sarebbe praticamente la bocchetta da cui escono i premi a questa forma proprio a missile diciamo e di sotto per l'appunto c'è semplicemente riportato il il marchio è fatto in cina naturalmente non l'avremmo mai immaginato e qui c'è un piccolo pendaglietto spero che lo metta a fuoco il telefono comunque c'è scritto per l'appunto 2018 perché fa parte della linea di decorazioni per il 2018 mi dispiace che non si riesca a vedere come merita in fotocamera perché ci sono tutta una serie di riflessi orrendi ma credetemi è fatto veramente bene ci sono tutti questi alieni guardate quante quanti occhi inquietante e però è molto carino tra l'altro spero che sta in piedi anche da solo si sta in piedi anche da solo quindi io l'andrò ad utilizzare sempre come sopramoglino avrai qualche amico esatto sempre per l'appunto della stessa serie tra l'altro e niente questi sono alcuni acquisti fatti nuovamente usufruendo di promozioni e saldi ditemi se vi piacciono e qual è l'oggetto che preferite personalmente a me piace tantissimo lui perché io odoro due esatto e anche questo naturalmente e poi vabbè anche le spirule sono belle però insomma conteniamoci e nulla ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao